Al countdown finale, la notte bianca di Pratola Peligna è il mondo in una notte che sarà un'edizione colorata di tante sfaccettature. Le nazioni e le loro peculiarità saranno al centro della notte più lunga e divertente della Valle Peligna e fra le novità dell'ultimo minuto spicca anche la bandiera che anneggia l'unione dei popoli e lancia un chiaro messaggio sociale contro il razzismo. La manifestazione inizia alle 18 di sabato 10 agosto e si dedica interamente ai bambini. Animazioni con giochi individuali e di gruppo, poi gran parata inaugurale alle 20 con i più piccoli, sempre protagonisti. Per tutti i partecipanti l'appuntamento è davanti l'ingresso del comando di polizia locale in piazza Garibaldi per ricevere la bandierina da sventolare in passeggiata, un segnale sociale e antirazzismo. Tutti uguali e insieme nel mondo, questo è il messaggio di partenza. A seguire dalle 20.45 tutti i bar con il loro DJ set, alle 22 il live tutto italiano di uno dei più grandi cantatori italiani, Neck, la ciliegina sulla torta, arriverà con lo spettacolo unico nel suo genere della più grande band che ha segnato gli anni d'oro, i Queen. La serata si concluderà i piatti con il duo DJ set di Alex Natale e Vale S fino all'alba. Per la sicurezza è fatto di vieto agli esercenti di somministrare e vendere bevande in contenitori di vetro come pure somministrare alcolici dalle tre in poi e si entra nel clima della notte mondiale.